Oltre 1.100 start-up provenienti da più di 40 paesi diversi. Al CS di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia di consumo, ma in scena anche il più grande evento dedicato alle nuove imprese a caccia di visibilità e investitori. Uno spazio al Sense Expo dedicato alle idee che potrebbero rivoluzionare il mondo in cui vivremo, mangeremo, comunicheremo in futuro. L'Italia dà un grande contributo partecipando con una cinquantina di start-up. Ce ne parla Michele Balbi, presidente di Teorema, che in collaborazione con Area Science Park, ente nazionale di ricerca e innovazione, ha creato TILT, il progetto che coordina la delegazione italiana insieme con l'Istituto del Commercio Estero e il contributo dell'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani e la Regione Sardegna. Quest'anno lo stand è molto grande, come hai potuto vedere. Siamo entusiasti, i ragazzi sono carichissimi, ci sono state tantissime visite oggi durante la giornata, quindi siamo tutti molto contenti. Avremo l'Investor Night, sono già previste la presenza di 250 persone, più tutti voi giornalisti. Ovviamente i ragazzi faranno dei pitch dove racconteranno i loro prodotti, racconteranno le loro aziende e racconteranno un po' i loro sogni di quello che vogliono fare. Il padiglione italiano è stato inaugurato da Gary Shapiro, il presidente di CTA, la Consumer Technology Association che organizza il CES. Il taglio del nastro ha dato simbolicamente il via all'avventura italiana a Las Vegas fra l'applauso delle start-up.